buongiorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo ariete aiuti e consigli inaspettati da un ariete cercati di essere aperti ai consigli e di farne tesoro toro chiarimenti necessari con la persona chiamate mercurio vi aiuterà a mettere in evidenza una situazione gemelli cerca di portare pazienza possibili equivoci e malintesi energie molto basse cancro idealizzerete l'amore e per questo avrete qualche problema cercate di essere più concreti leone se state progettando il futuro fatelo con cura e intelligenza si stanno profilando vittorie interessanti e risultati inaspettati vergine uscite di denaro fai solo ciò che ritieni realmente importante per il resto riposa bilancia in amore non vince sempre chi fugge cercate di essere più presenti scorpione buon umore con la tua simpatia riuscire a conquistare chiunque sagittario nettuno ti suggerisce di giocare il gioco dell'attesa in amore guardate però in faccia la realtà capricorno giornata movimentata avrai molte cose da fare notizie e telefonate acquario oggi sarai capace di fare molte cose rendi più accogliente la tua casa un sagittario ti sarà alleato pesci decisioni importanti da prendere entro oggi che riguardano comunque l'amore e la sfera dei sentimenti però non abbiate timore questo è tutto al prossimo appuntamento con l'oroscopo grazie a tutti